Buongiorno, abbiamo espresso al Presidente della Repubblica Mattarella la disponibilità a verificare la formazione di una diversa maggioranza e l'avvio di una fase politica nuova. Non un governo dunque a qualsiasi costo, quello che serve è un governo di svolta, alternativo alle destre, con un programma nuovo, solido, un'ampia base parlamentare e che possa ridare una speranza agli italiani. Ovviamente se non dovessero esistere queste condizioni, e abbiamo ribadito al Presidente Mattarella, queste condizioni tutte da verificare allo Stato attuale, lo sbocco naturale della crisi, sono nuove elezioni anticipate alle quali il Partito Democratico è pronto. Qualora non sia possibile realizzarla, la strada maestra è una sola, le elezioni anticipate. questo è il suggerimento che ho formulato al Capo dello Stato, Capo dello Stato nel quale Forza Italia ripone la massima fiducia per le scelte che riterrà opportuno di operare.